E vai, e vai, cosa fai nella vita? Lavoro. Lavoro, beh, chi non lavora non fa l'amore, mi sembra giusto. Esatto, ma io lo faccio comunque. Ah, bene, 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 bene. E cosa fai nella vita? Lavoro. Ho capito, ma cosa? Assemblatore meccanico. Ah, benissimo, perfetto, perfetto. Passata una serata goliardica? Goliardica impegnativa. Perfetto, è andata bene comunque. E vai, grande, grande. Quindi adesso si mangia con gli amici. Bene, dai, abbiamo 40, 30, 40 persone. Ah, ma sei diretta? Beh, sì, eh. Ma sei famoso. Beh, abbastanza, insomma, con 40 persone che ci stanno guardando. Ma l'ambero, uau. 250.000 follower. Non è vero? Sì, sì, facciamo. No, facciamo serate per single, noi. Veniamo da Milano, abbiamo fatto serata a Milano, sì. Sì, sì, figa. Ah, beh, owner, ragazzi. Eravate di essere tosti solo voi. Eh, sì, eh, ma noi... Dove si andrà di far serata? A Rodi, Milano, sì. Secondo me si andrà di far serata proprio noi. Secondo me? Stasera dove si andrà di far serata? A Rodi, Milano. E ci vanno qua al 3? Eh, beh, andiamo a dormire, abbiamo Reggio Emilia stasera. Adesso siamo a Reggio Emilia dopo. Noi siamo... Ne facciamo quattro alla settimana, ne facciamo. Assolutamente, assolutamente. Sì, sì. Però pensavo fosse venuti a far serata in un posto. No, 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 ma noi facciamo proprio i presentatori, il spettacolo. Sì, 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 sì. 130 persone. Bene, bene. Travamo 130 stasera ne avevamo, sì, sì. Quindi, guarda, tutti continuamente commentano, ci salutano.